Stefano, non è che sono tanto comodo, la prossima volta magari facciamo un'uscita Questa qua cos'è doppia E? Non lo so, non lo so, no perché poi dobbiamo fare la newsletter Questo sopra luogo, questo che abbiamo fatto, no veramente, qualcuno ci aiuti, ci venga il sopposso Allora, stiamo a sampare, ce lo faccio? Vengatela sempre, non è in casa, non è in casa, non è in casa, non è in casa Però eh? Che weekend, fantastico Ci riportiamo un attimo finalmente, abbiamo un po' di meno, di ombre La serale è stata fantastica ieri sera, dai Poi abbiamo beccato due giornate Un tempo, un gruppo, tutto bello Peccato chi non è venuto Peccato Perché non la riferemo mai più Mai più Così bella che rimane unica Così no Dai, andiamo alle macchine Andiamo E abbiamo trovato pure i funghi Eh, ma infatti guarda che è il laggio terzo, coi funghi, col coso, non so se... Sta molto, il buon viso Sta molto, il coso Grande, grande Grazie 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 Grazie